colgo l'occasione ragazzi per ricordarvi di iscrivervi al canale aiutarmi a crescere attivare la campanellina e vi ricordo il nuovo contest sul canale ragazzi il contest road to 15k ricordatevi di aprire la descrizione di ogni video in cui troverete il link del contest troverete tutti i miei contatti contatti del team glitch e tutto il resto detto questo vai con la intro ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è un solo money glitch per fare questo money glitch dovremmo avere il bunker il com all'interno del bunker il com deve avere il diciamo la postazione e al terzo slot deve avere il deposito veicolo personale quindi a questo punto dovremmo avere una lg retro custom ci servirà il night club l'entrata del night club ragazzi o la base operativa o l'hangar però comunque sia l'entrata del night club quindi a questo punto nell'entrata del night club dovete avere una lg rh8 normale ragazzi che sarà quella che ci servirà per fare il glitch e in più dovremo avere il carico di birra ragazzi quindi a questo punto prendiamo questa lg retro custom ragazzi questa lg retro custom viene direttamente dal centro operativo mobile e è indifferente ragazzi se venga o no dal centro operativo mobile il centro operativo mobile può essere anche vuoto e potete anche chiamare la lg retro custom da un altro garage e successivamente andarla a mettere nel vostro centro operativo mobile non cambierà molto quindi a questo punto ragazzi io rientro nel centro operativo mobile per farvi vedere che comunque la lg in cui mi trovo fa parte effettivamente del centro operativo mobile ma come ho già detto è irrilevante questa cosa ragazzi potete chiamare anche una retro custom da un altro garage e fare la duplicazione allo stesso modo insomma non è quello il grande problema quindi a questo punto una volta fuori ragazzi che cosa dovete fare dovete strappare lo sportello all'auto una volta che abbiamo strappato lo sportello all'auto e passeremo al bug successivo che sarà quello che ci permetterà di baggarci per poter duplicare le auto quindi strappato questo benedetto sportello passiamo al bug allora ragazzi è fondamentale questo è un passaggio fondamentale che stavo dimenticando che nel bunker dovete avere la video sorveglianza la video sorveglianza per chi non lo sapesse ragazzi è qui a diciamo dove a dove il computer insomma e dove controlleremo tutto quanto il bunker in pratica è la stessa video sorveglianza che abbiamo in tutte le nostre proprietà insomma se non l'avete compratela perché comunque è veramente necessaria anche perché servirà per sbaggarci quindi a questo punto ragazzi passiamo al glitch in sé che cosa dovete fare dovete entrare nel vostro centro operativo mobile e una volta che sarete entrati nel vostro centro operativo mobile vi dirigerete scusatemi ragazzi al centro di comando e una volta che sarete qui e che sarete ceo ovviamente perché dovrete essere ceo per avviare una missione da qui avviate una missione ma prima di fare questo che cosa andremo a fare dovremmo aprire il telefono ragazzi io qui ho sbagliato apriremo il telefono andremo in un'attività rapida e andremo a selezionare non so freccette golf braccio di ferro una qualunque attività rapida non è importante quale sia ma dobbiamo selezionarla e giocarla da soli dopodiché appena c'è il caricamento faremo freccia destra accetteremo e andremo a caricare la prima missione dopodiché ci butterà fuori premeremo nuovamente freccia destra e appena saremo qui dentro premeremo option e diciamo potremo muoverci liberamente quindi qui andremo ad uscire da questa porta e non dalla porta posteriore ragazzi perché altrimenti vi si buggerà in schermata nera infinita e non avrete più possibilità di fare nulla mi raccomando ragazzi cercate di farlo più velocemente possibile perché se in questo lasso di tempo che voi state andando dal com a diciamo alla videosorveglianza vi comparirà qualche messaggio del tipo che l'attività non è stata trovata oppure volete iniziare come host il glitch non funzionerà quindi a questo punto vi avvicinate alla videosorveglianza premete freccia destra anche se non la vedete entrate vi butterà fuori immediatamente e diciamo che avremo fatto il bug se il diciamo abbiamo bloccato il caricamento se il telefonino si tirerà fuori significa che sarà andando tutto bene quindi a questo punto ubriacatevi ragazzi fino a morire per poter spawnare fuori dal bunker allora ragazzi vi do una dritta nel caso in cui non vi facesse bere le birre con la x cosa non so ad alcuni lo fa però a me per esempio non l'ha fatto e in caso non vi facesse bere la birra comunque dal menu interazione impostate nel menu opzioni quindi andate in option andate in online andate in opzioni e impostate lì dentro bevi peace wiser basta dovete fare semplicemente questo è una volta che comunque avete fatto il tutto l'unica cosa che vi resta da fare è ubriacarvi serviranno intorno a 6 7 birre mi raccomando bevetele tutte se lo fate con la x premete due volte il tastino in maniera che il giocatore la beva tutta quando spawnate fuori dalla base dal bunker ragazzi scusate rincoglionimento andate ad unirvi ad un amico che sta giocando in un'altra sessione perché noi dovremmo avere ovviamente la mira manuale quindi automaticamente avendo noi la mira manuale il nostro amico che cosa farà sarà in un'altra sessione ovviamente e ci arriveranno questi messaggi accettiamo il primo cancelliamo il secondo e come vedete sparirà la schermata offuscata e saremo pronti a continuare il glitch a questo punto dal momento che siamo ceo chiamiamo il buzzard e andremo a spostarci in un negozio vicino a noi a comprare le birre anche perché dopo andremo a continuare il glitch quindi una volta comprate le birre l'unica cosa che dovremmo fare è dirigerci all'entrata del nightclub dove al suo interno dovremmo avere una lg rh8 normale per entrata del nightclub non intendo i garage ma intendo l'entrata del nightclub come mi sembra di aver già detto questo glitch si può fare anche nell'hangar ragazzi ma nell'hangar dovete usare i buzzard però è tutto lo stesso procedimento né più e né meno non so se funziona ancora in base operativa però nell'hangar sono sicuro che funziona e nel nightclub sono sicuro che funziona quindi a questo punto entrate nell'entrata del nightclub come state vedendo e una volta che siete dentro l'entrata del nightclub l'unica cosa che dovete fare è salire sulla vostra lg rh8 e accelerare a quel punto come accelereremo l'auto sparirà e la duplicazione sarà avvenuta quindi una volta qui dovremo ubriacarci un'altra volta per spawnare fuori anche perché se tenteremo di uscire si buggerà e dovremo riavviare il gioco purtroppo il glitch del teletrasporto è stato pacciato da una parte meglio così da una parte no perché magari era utile per fare i money glitch non per andare a rompere il cazzo indire in sessione come fa tanta gente comunque sia a questo punto ragazzi una volta spawnati richiamate il vostro buzzard andatevene a ricomprare le vostre birre ovviamente perché se volete continuare il glitch dovete comprare nuovamente birre quindi ci dirigeremo alla nostra al nostro bunker dopo aver comprato le birre allora ragazzi per continuare il glitch molti di voi questo glitch lo conoscono però per continuare il glitch avete bisogno di un colpo di lester o di un colpo nella base operativa se lo state facendo nella base operativa allora in questo caso noi andiamo a comprare le birre e torneremo nel nostro bunker allora come dicevo una volta che abbiamo fatto il tutto come vedete quest'auto ha una targa numerica come saliremo in auto ovviamente rimarrà numerica ma cambierà insomma l'unica cosa che dovremo fare è andare a salvare l'auto dentro il centro operativo mobile riportarla fuori ristrapparli lo sportello e continuare il glitch ma in questo caso ragazzi che cosa succederà che andremo a teletrasportarci in un appartamento con il colpo di lester in maniera tale da non sprecare birre e una volta che saremo nell'appartamento dovremo chiamare la LG Retro Custom che si trova all'interno del nightclub all'entrata e metterla in un garage dove abbiamo tutte LG RH8 automaticamente se il garage sarà pieno l'auto andrà a trasferirsi nel nightclub all'entrata del nightclub e quindi potremo ripetere nuovamente il glitch lo so il glitch è un po' lungo è un po' rompicoglioni è un po' tutto però come ho già detto questo è l'unico glitch da fare in solo è l'unico glitch che si può fare e che comunque ci consente di fare qualche soldino insomma quindi a questo punto come ho già detto o scegliete di bere birra un'altra volta oppure vi delle trasportate con il colpo dell'estere se ce l'avete o in base operativa o in nel vostro appartamento dopodiché ricordatevi sempre di comprare le birre e tutto il resto detto questo spero che il glitch vi sia piaciuto un saluto a tutti al prossimo video ciao belli ciao 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 ciao